allora ragazzi faccio questo video perché voglio rispondere all'amico io leggo come si scrive abbiare pazienza e pes e football pes 2022 lo leggo come si scrive così non mi sbaglio perché è interessante noi il discorso che lui fa lui dice che non è vero che gli incontri diretti con le grandi diciamo gli scontri con le grandi sono fondamentali per vincere il campionato perché lui dice nel 2001 quando abbiamo vinto il nostro terzo scudetto abbiamo perso a milano due volte sia con l'intere che col milan abbiamo perso male a firenze a firenze abbiamo perso 3 a 1 e pareggiato due volte con la juventus ricorderete il 2 a 2 che della partita giocata perdevamo 2 a 0 la partita giocata il 6 maggio 2001 che ci ha dato di fatto poi lo scudetto poi c'è stata la grande festa col parma che ormai era quarto quindi è stata una partita giocata all'olimpico stracolmo di entusiasmo e non poteva che finire in quel modo quindi è interessante questa sua riflessione perché ci dà modo di andare a rivedere un attimo questo campionato così importante nella 2000 2001 la roma deve per forza rispondere alla vittoria del 2000 molto locambolesca e sculata dei cugini laziali ricorderete noi fatti di perugia e Sensi sostanzialmente dice basta io caccio fuori i soldi e vinco il campionato prende Batistuta la squadra è già fortissima e è andata a finire come è andata ma è una squadra che era molto forte allenata da capello poteva avrebbe potuto vincere molto di più comunque classifica la finale di quel campionato dice roma 75 allora innanzitutto c'erano già i tre punti per vittoria che dal 95 96 se ricordo bene che ci sono stata una grande rivoluzione che sicuramente ha portato dei risultati positivi perché col pareggio oggi si fa poco ancora oggi quindi anche in trafferta le squadre hanno cominciato a ragionare che è meglio cercare di vincere che pareggiare perché poi col pareggio ci fai poco credo di ricordare che l'anno prima è stata introdotta questa novità in maniera sperimentale mi pare in serie in serie c nella lega però mi potrei sbagliare però comunque il campionato la cosa importante che ha 18 squadre ma ancora 18 squadre e questo non è un dettaglio è importante questo allora la roma chiude a 75 punti 22 vittorie 9 pareggi e 3 sconfitte le sconfitte che cita appunto e football 2022 quindi due volte a milano inter e milan e a firenze è molto importante dire 22 93 perché perché seconda arriva la juventus a 73 punti 21 10 3 quindi anche la juventus perde tre gare ne pareggia 10 perché tra questi dieci pareggi c'è anche il pareggio appunto del 6 maggio a torino e quindi le sue vittorie rimangono 21 e non 22 la matematica proprio i numeri ci dicono che quella partita ha deciso il campionato se la juventus avesse vinto avrebbe chiuso a 22 93 e la roma 21 10 3 e saremmo arrivati noi dietro quindi partita determinante i famosi gol no di montella e nakata che ci hanno dato di fatto poi quello quel pareggio che è stato fondamentale terzo arrivato alla lazio a 69 parma 56 molto staccato il parma quarto l'inter arriva a 51 punti il milan arriva a 49 rendetevi conto che distacco abbiamo inflitto a queste squadre quindi roma 75 inter 51 milan 49 atalanta e breccia 44 io penso proprio di ricordare nel 2000 vedendo anche la classifica è sicuramente nel breccia c'era ancora roberto baggio fiorentina 43 bologna 43 perugia 42 udinese 38 lecce reggina verona 37 vicenza 36 napoli 36 bari 20 napoli 33 penultimo porca miseria bari 20 18 squadre abbiamo detto quindi che cos'è che balza immediatamente all'occhio caro amico e football patch 2022 ti ringrazio il tuo commento che mi dà modo anche no di parlare di questa cosa che sicuramente interessa tutti di voi della roma perché poi il tempo passa ci si dimentica di questi campionati così importanti che sostanzialmente milan roma e inter roma poi di fatto non sono stati degli scontri diretti perché quel campionato queste squadre sono arrivate a qualcosa come 24 punti l'inter e 27 punti 26 punti il milan quindi bisogna anche contestualizzare l'inter e il milan di quel campionato non sono l'inter e il milan di questi anni qua che lottano per lo scudetto fino all'ultima giornata sono squadre che ci stavano sotto questo va detto la sconfitta di firenze perdiamo 3 a 1 a firenze vediamo quando il 9 aprile 2001 è un cioè non tutte le ciambelle riescono col buco nell'arco di una lunga stagione c'è anche la giornata che ci sarà stato anche un calo fisico eccetera e la partita te va storta una partita la poi anche perde alla fine hai perse 3 ma hai fatto 22 vittorie e 9 pareggi quindi è chiaro che abbassata abbastanza episodico ma soprattutto ripeto anche la fiorentina è arrivata poi 5 6 7 non ha detto al nono posto quindi non è stata certamente un avversario di primo livello di prima fascia in quel campionato lì quindi ogni campionato c'è la sua storia andando ai confronti ai confronti diretti che tu stavi ricordando per quanto riguarda il milan la roma perde a milano il 21 gennaio 2001 3 a 2 e con l'inter invece l'uno novembre 2000 perde 2 a 0 queste sono le due sconfitte di milano con ripeto squadre che sono arrivate a 24 punti poi 26 punti il 9 aprile 2001 c'è questa sconfitta di firenze 31 e sono le uniche tre sconfitte del campionato fondamentale dal punto di vista psicologico è una partita che tutti ricordiamo il 26 novembre 2000 roma fiorentina 1 a 0 un gol di batistuta memorabile che spero di incontrare batistuta mi pare che sia il 22 settembre a trento c'è ospite batistuta gli vorrei tanto chiedere ci sarà il festival dello sport a trento una grandissima cosa per noi romanisti saranno ospiti dei numeri 1 in assoluto batistuta falcao capello zeman e dunque ce n'è ancora un altro vediamo un po se riesco a ricordarmelo falcao batistuta zeman capello ma questo come già mi sembra a bruno conti c'è anche bruno conti spero di poter fare dei bei video perché ci vado e mi voglio veramente gustare qualche aneddoto e gli vorrei tanto chiedere ma sta palla a roma fiorentina che ha sfondato la porta in quel momento cioè proprio con una coordinazione di una difficoltà incredibile ma come lei lei presa di collo d'esterno di mezzo con gli vorrei proprio chiedere come l'ha colpita quella palla che si abbassa improvvisamente ma è un tiro di una potenza devastante da quella posizione lì nel modo in cui calcia la palla batistuta la palla deve andare in curva ma proprio neanche rimbalzata proprio andare direttamente in curva invece lui riesce a tenere la palla diciamo bassa praticamente finisce sotto la traversa ma è un tiro memorabile ci fu un boato mi dicono che mi hanno sempre detto che uno dei boati più assordanti insomma che si sono sentiti a un gol della roma paragonabile a quello del famoso gol di feller in roma bronbi vedremo se riuscirò a fare questa domanda a batistuta e quindi per quanto riguarda invece poi le battite interne queste le abbiamo viste la roma il 27 maggio 2001 pareggia 1 a 1 col milan il 22 dicembre 2000 ha pareggiato all'olimpico 0 a 0 con la roma e batte l'inter 3 a 2 il 4 marzo 2001 altra partita importante ma la partita chiave ve l'ho dimostrato matematicamente è juventus roma 2 a 2 del 6 maggio 2001 i numeri ci dicono proprio 22 vittorie 9 pareggi 3 sconfitte roma 21 vittorie 10 pareggi e 3 sconfitte la juventus se avesse vinto quella partita la situazione sarebbe stata inversa la juve avrebbe vinto il campionato che quindi arriva la seconda sia nel 2000 che nel 2001 battuta in entrambi i casi dalle romane quindi come tu vedi e football pass 2022 anche gli altri che ci seguono se escludiamo lo scivolone di firenze che è uno scivolone nel contesto di una grandissima stagione che ci può anche stare la fiorentina vi ripeto è arrivata nona quindi non era certo un avversario diretto quella in quella stagione la stagione i nostri avversari si sono chiamati soprattutto juventus e lazio però alla fine di questi scontri diretti in un campionato a 18 squadre alla fine abbiamo perso a milano con l'inter e il milan questo è successo abbiamo però battuto poi l'inter in casa pareggiato due volte con la juventus e pareggiato in casa con il milan quindi non è un ruolino di marcia negativo assolutamente troppo ci stanno anche gli avversari che a volte indovinano delle grandi partite e anche la grande roma di capello qualche partita la perdeva no non è che ha una squadra invincibile no quindi ci sta che ne vinci 22 ne pareggi 9 3 ne poi anche perde quindi oggi è diverso il discorso oggi questo campionato a 20 squadre come avrete sicuramente notato c'è un certo dislivello fra le squadre di della parte finistra della classifica e quelle della parte destra quindi queste squadre della parte destra ci sono molto inferiori è inutile che mi venite a di che c'è equilibrio le ultime squadre della parte destra sono tecnicamente inferiori vanno battute vanno battute basta le partite chiave adesso oggi quest'anno in questi anni ci sono quelle quattro cinque squadre che si contentano si contendono i primi quattro posti diventano fondamentali i confronti diretti ed è per questo che è importantissima juventus roma anche se è la terza di campionato io la vedo così poi ognuno è libero di pensare come vuole e mi fa solo piacere se mi commentate mi dite quello che ne pensate eccetera eccetera perché chiaramente non è che pretendo che di avere sempre ragione io ieri c'è stata la partita sampdoria juventus che ha fatto registrare il primo la prima sorpresa di questo campionato la seconda del campionato diciamo la verità chissà aspettava che la sampdoria avrebbe fermato la juventus la sampdoria ragazzi l'ho vista giocare è una squadra veramente modesta che vive delle fiammate di qualche contropiede eccetera eccetera e qualche iniziativa del vecchio qualiarella che è sempre un grande giocatore che poi entra poi spesso nel finale riesce comunque a in quelle due o tre occasioni quei palloni che gli capitano sempre a creare dei grossi pericoli ma la notizia soprattutto della juventus gioca malissimo gioca proprio male sarebbe un delitto perdere a torino con una squadra del genere oggi poi io sapere che vivo a genova si parlava quasi parla molto di calcio fortunatamente anche nei bar eccetera e dicevano che sostanzialmente allegri non ci capisce tanto di calcio perché la partita di ieri è una partita che è ampiamente alla portata della juventus perché la sampdoria è una squadra non certamente tra l'altro è una delle due squadre che ha speso di meno per rafforzarsi come già ricordato quindi è una squadra che faticherà tanto a salvarsi la juve ha un centrocampo problematico per rendervi conto della della fragilità difensiva della sampdoria basta che vi vedete nel primo tempo l'occasione che capita quadrato con il l'esterno sinistro della sampdoria che deve solo stoppare una palla sbaglia lo stop quadrato gli ruba la palla si invola verso audero poi tira molto forte ma centrale ma la palla praticamente regalata e lì avete avuto la sintesi di quello che è la difesa della sampdoria quest'anno ma non è bastato la juve non ha vinto la juve è una squadra che ha dei problemi perché ha perso Pogba e Di Maria per infortunio e quindi quei due giocatori soprattutto Di Maria perché su Pogba o qualche riserva è chiaro che diventa molto molto più fragile ora addirittura andava su Arek Milik l'ex centravanti del Napoli in forza al Marsiglia che poi non è che mi sembra che stia attraversando un momento particolarmente felice comunque era un bellissimo giocatore fermato purtroppo da due crociati rallentato alla sua carriera quando arrivò al Napoli sembrava veramente un giocatore molto forte ma già il fatto che pensano di prendere Milik mi lascia abbastanza perplesso la juve è una squadra che ha degli equivoci ci sono dei giocatori che sono sopravvalutati a partire da Moise Kean che è entrato anche ieri ma anche altri e complessivamente devo dire la verità accusato anche molto avere perso Cristiano Ronaldo perché Cristiano Ronaldo dove era un giocatore che ha questa capacità di far salire sempre la squadra ogni volta che prendeva palla perché lui partiva in dribbling male che vada prendeva una punizione poi dopo ha risolto tante partite anche per esempio con delle giocate per esempio di Testani a Corbatia proprio a Genova vi ricorderete un famoso gol che fece un'innovazione straordinaria quindi quando erano via Ronaldo la juve secondo me ne ha risentito proprio dal punto di vista del gioco offensivo non tanto per i gol segnati quanto proprio per la capacità di trasformare un pallone a centrocampo in una palla che diventa pericolosa per l'iniziativa di un solo giocatore quindi io sono molto rammaricato perché quest'anno si voleva vincere a Torino e vincere a Torino la terza ricampionato dopo due vittorie e sei punti in classifica era molto importante perché dopo c'è Roma-Monza, Udinese-Roma e Empoli-Roma e sono tre partite che noi con questa squadra possiamo vincere anche senza Zaniolo e Wijnaldum quindi potevamo mettere insieme una striscia di vittorie e portarci a punteggio pieno mandando anche un segnale al campionato a livello psicologico e a quel punto là poi si arrivava alla fine di questo primo ciclo a fine novembre poi c'era questa lunga pausa a gennaio tra l'altro recupereravamo anche Wijnaldum a gennaio e si vedeva anche nel calcio mercato di gennaio di completare il calcio mercato capite che cosa ci veniva a creare noi mi pare all'ottava abbiamo un Inter-Roma quest'anno vediamo se riesco a trovare il calendario vediamo se questo mi pare che all'ottava giornata dice Inter-Roma all'ottava giornata diciamo che Inter-Roma è una partita molto difficile secondo me quindi dopo la terza con la Juventus c'era quest'altro impegno molto difficile però poi le altre partite tutto sommato si poteva veramente arrivare al 13 novembre noi dobbiamo fare 15 partite 13 novembre finisce con Roma-Torino questa prima parte poi se ne riparla il 4 gennaio con Roma-Bologna quindi tra l'altro come vedete sono 15 turni e Zaniolo secondo quello che sappiamo purtroppo con questo fatto che le partite sono molto ravvicinate salterà 7 partite perché si gioca ogni check noi qua oggi il 27 c'è già Juventus-Roma perché si gioca continuamente quindi purtroppo Zaniolo salterà 7 partite è un peccato perché è un giocatore che ha una forma atletica una condizione atletica meravigliosa metteva semplicemente paura quando partiva con questi strappi sembrava incontenibile ovviamente essendo un ragazzo giovane a volte manca un po' di freddezza quando tira in porta ma arriverà anche quella arriverà anche cioè l'azione che con la Cremonese lui fa quella azione in solitaria poi tira stamina centrale molto forte che viene respinta a mani aperte da Radu poi arriva Di Bala che tira al volo e para ancora Radu è proprio l'esempio di quello che sto dicendo c'è un'azione straordinaria con un giocatore che veramente ti lascia a bocca aperta però quel tiro lì è il tiro che è fatto apposta per fare bella figura al portiere perché è centrale molto forte ma qui stanno a livello di serie A magari in serie B sfondi la porta e neanche la vede il portiere è un tiro che andava angolato con un po' più di freddezza Zaniolo che ha un sinistro omicidiale poteva tirare in diagonale incrociare capito e diventava con quella potenza imparabile il tiro però voi direte certo dalla poltrona è semplice chiaramente lo so il gioco delle parti è questo io non sto in campo a tirare in porta per guadagnare milioni di euro all'anno io faccio un'altra cosa quindi giustamente direte voi però è certo da casa per esempio come fai a giustificare l'errore che fa Ebram nel primo tempo praticamente a porta vuota su quel cross da sinistra cioè purtroppo chi ha giocato sa che si possono sbagliare anche quei gol invece a volte a volte proprio l'eccesso di cioè sei sicuro ormai di avere segnato e colpisci la palla invece va fuori può succedere anche questo comunque un'altra cosa che volevo dire è che la grande partita che ha giocato ieri The Sears l'attaccante della Cremonese è un'altra medaglia per la vittoria della Roma in Conference League contro il Feno perché in quella finale come ricorderete il capo cannoniere di quella manifestazione The Sears fu praticamente annullato dalla difesa della Roma in particolare da Smalling che è un giocatore fortissimo ragazzi e anche in quell'occasione ha avuto un avversario temibile come abbiamo confermato ieri visto ieri e ha fatto una grande partita e credo che la grande partita di Smalling in quella finale sia stata veramente molto importante come sarà molto importante anche la prestazione di lui Patricio nelle due parate meravigliose che fa all'inizio del secondo tempo oltre ovviamente all'eroe della serata che fu Zagnolo che con il suo gol ha spaccato in due la partita quindi come vedete vincere una Conference League non è facile assolutamente come molti detrattori vogliono far credere e mi farebbe anche ridere se la Fiorentina che ha vinto 2 a 1 con il Tuente nei primi di Conference League di quest'anno perdesse poi in Olanda uscendo subito senza neanche cominciare mi farebbe proprio ridere perché vi direi ecco dicevate tanto che la Conference League ha una coppetta ecco qua non se la porta la casa la Fiorentina in Olanda attenzione perché è molto pericolosa quella partita per dire la vittoria della Conference è stata una vittoria difficile ragazzi i giocatori erano gli avversari erano avversari importanti e quindi dobbiamo andare orgogliosi di questa vittoria tornando a Roma cremonese noi purtroppo stiamo attraversando dei giorni difficili perché avere perso due giocatori di patente in due giorni come Guainaldo e Zagnolo in un certo senso fa passare pure in secondo piano i sei punti in classifica perché si parla solo di questo e di quali giocatori prendere molto rapidamente si parla di Grilis si parla di Tamezze del Verona che è un giocatore di nazionalità camerunense si parla di addirittura si è parlato di Nainggolan che si sarebbe offerto alla Roma a 35 anni per queste partite queste 13 partite cioè uno poi a gennaio bisogna anche vedere però Guainaldum quanto tempo ci metterà anche per essere in condizione di giocare certo se Nainggolan forse in condizioni fisiche ottimali se potrebbe pure far ma bisogna capire in quali condizioni è vedremo quali saranno le decisioni io personalmente vi dico la verità non sono mai per le minestre riscaldate però noi sapete che per il ninja avevamo una predilezione perché Nainggolan e Strotman erano proprio due giocatori che erano entrati nel nostro cuore vedremo quali saranno le decisioni Belotti vicinissimo perché Felix dovrebbe chiudere finalmente con la Cremonese per 8 milioni di euro secondo me è un alto capolavoro di calciomeccato ma ho detto tante volte che la tempistica di questo calciomeccato non non mi piace siamo andati troppo oltre con con la tempistica vedremo nei prossimi giorni quindi quale sarà lo sviluppo quali giocatori andremo a prendere però naturalmente siamo arrivati ormai molto vicini alla partita di Torino e quindi credo che a Torino è chiaro che giocheranno questi giocatori che abbiamo visto ieri credo che Pellegrini giocherà al posto di Zaniolo e Matic penso che a Torino lo vedremo dal primo minuto penso che succederà questo quindi Pellegrini sarà avanzato e avremo Matic a centrocampo a questo punto con Cristante a fare coppia con Cristante è una partita che aspettavo perché pensavo che quest'anno la Roma potesse veramente vincere a Torino e ancora oggi nonostante tutto penso che possiamo fare un'ottima partita perché vi ripeto che la Juve gioca veramente male vedremo vi saluto e vi abbraccio e ci sentiamo nei prossimi giorni e vi abbraccio